E per San Valentino ti regalo un carciofo! Cestini di filo con crema di tonno e carciofi grigliati le conserve d'aune. Inseriamo il nostro tonno, aggiungiamo la crema di formaggio, un cucchiaino di capperi, regoliamo un pizzico di sale e un pettino di pepe. Proviamo! Lo facciamo riposare in frigo per circa 10 minuti. Mangiamo lo stampo per muffin con acqua e olio. 5 fogli di pasta a filo. Adesso formiamo i rettangoli. E a questo punto inseriamo all'interno della nostra teglia. 180 gravi per circa 10 minuti. Se qualcuno me li preparasse per San Valentino, io sarei più felice. Che bella consistenza questi carciofi grigliati delle conserve d'aune. Pinsettina. 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 Pinsettina.